Ciao amici, ciao amiche, yeah! Benvenuti sul canale Davide Chiara Channel! Nuovo video haul! Pazzia, pazzia, pazzia! Pazzia da Footlooker! Con i saldi! Yeah! Allora ragazzi, questo è il mio preferito, questo, questi video, l'adrenalina fa salire. Iniziamo con un capo, una magliettina giusto tanto per. Allora, questa semplice t-shirt della Nike, vedete, semplice stemma, bella, semplice e basta. Questa maglietta è stata pagata 19 euro e 95 centesimi. E questa non è nel saldo, però per 20 euro, lasciamo lì, no? Bisogna tirarla lassù. Questo è un primo capo. Passiamo con un fantastico pantalone che già ho visto. Ma questo qua da, allora, adesso vi faccio vedere innanzitutto il pantalone. Guardate che bello, della New York Yankees, dietro lo classico simbolino. Questo pantalone da 39,95, con lo sconto del 24%, pagato 29 euro e 99 centesimi. Potevo lasciare questo pantalone fantastico da 30 euro a Footlooker, ma sia mai! Ma ragazzi, io di questa qua proprio mi sono innamorato, guardate che bella, guardate che bella, simbolo della New York Yankees, guardate che bella, ma spettacolare dietro. Questa qua, pagata 29,95 euro e ho detto, ma 30 euro perché lasciarla qua così bella, sia mai, no, 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 ho detto, mettine il sacchetto. Però attenzione, potevamo lasciare anche il pantaloncino in coordinato, è uguale a quello là, vedete, però questo è proprio il completo. Questo qua costicchia perché questo ho pagato 39,95 euro, però guardate che bella, guardate che bello, dai, a parte gli scherzi, sì, tacamanda, tacamanda, poi una bella maglietta dell'Adidas, guardate qua, questa non potevo lasciarla giù, guardate che bella, dietro è semplice, però il davanti è particolare, questa qua, pagata, anche questa costicchia, pagata 34 euro e 95 centesimi, ma ho detto, oggi facciamo shopping, ci siamo dati alla pazza gioia, oggi, ma poi la cosa, guardate questa giacca qua, primaverile, questo rosso qua particolare dell'Adidas, guardate, guardate qua, dietro naturalmente troviamo il cappuccio, non lo voglio tirare fuori perché è messo bene, e questo qua era in saldo, non trovo però lo scontrino, il prezzo, questo qua era in saldo, allora, costava 79, pagata 49, però guardate che bella, ora passiamo al top di gamma, ho detto, non ho scarpe, approfittiamole, scarpe non sono in saldo, ma scarpe pagate 169 euro, ma guardate qua, la bellezza suprema, guardate qua, ve le ricordate le TN, vero, le squalo, ma ha colpito sto colore qua, adesso sono soddisfatto perché comunque di scarpe, adesso sono a posto, però guardate qua veramente che bello, il simbolo TN, il classico simbolo, ma il baffo qua mi fa impazzire particolarmente, guardate che bello, classica punta, insomma, le classiche TN, che sono veramente bellissime, mancava questo, no, volevo, volevo vedere, se trovavo, il prezzo di questa qua, di questa giacca qua, ragazzi vi faccio vedere lo scontrino, non sembra che sono andato all'essere lungo a fare la spesa, guardate qua, prezzo totale, ho speso 364 euro e 79 centesimi, adesso magari vi faccio vedere qualche clip, così, vedere, per vedere qualche capo indossato, guardate che belli, Gis, Gis, pantaloncini, Luglio, Rienkis, sull'acerto, abbiamo qua, un bel elastico, in vita, bello alto, resistente, due taschine qua, la taschina qua, il simbolino qua, dov'è? questo è il simbolo qua, della Luglio Rienkis, pantaloni che non tengono caldo, vanno bene per forza per viso, bene freschi, no, invece abbiamo un bel completino, sempre pantaloni della Luglio Rienkis, guardate il bello di questa, i pantaloni sono uguali a quelli, sono, sull'acqua che questi sono rossi, e più corti, sempre le tre taschine, infatti anche le taschine sono corte, e la particolarità di questa bella canotta, oltre che avere lo stem qua, della Luglio Rienkis, le due strisce qua, ma la particolarità del bello è dietro, guardate che bella, guardate che bella proprio, qua i bordini, che vanno giù, proprio bella, allora se vedete il pantaloncino, la maglietta sto brecciate, perché prima di fare il video, sono state lavate, e appunto prima di stirarle, ho fatto direttamente il video, in modo che poi le posso stirarle, e indossarle direttamente, allora maglietta dell'Adidas, guardate lo stemma proprio che bello che è, una striscia bianca, una nera, e tutto il resto arancione, vi faccio vedere, è veramente bella, veramente veramente, questa è, non dico fresca per adesso, perché sono in casa, sto grondando, ma è una bella, una t-shirt dell'Adidas, veramente, comoda, leggera, per questo periodo va bene, allora, guardate che bello, sempre stemma dell'Adidas, le sue belle strisce, la particolarità, di questo, jacket e way diciamo, tasche normali, le sue tasche normali, le due, le due classiche tasche normali, ma la particolarità, che dentro, c'è il classico, cappuccio, per coprirsi dalla pioggia, appunto, perché, questo materiale, che fa scivolare l'acqua, in modo che noi ci bagniamo, se piove, dietro, e non è il classico normale, dal davanti, mi piace, per queste particolarità, oltre alle righe laterali, classiche dell'Adidas, queste due righe, qua, poi possiamo alzare, qua il collo, se nel caso, becchiamo il vento, oppure lasciarlo, tranquillamente, così, abbassando il collo, andando in giro, così, top, e niente, spero che il video, vi sia piaciuto, spero che il mio shopping, abbia preso un po' di spunto, vi ringrazio per l'attenzione, grazie agli iscritti di sempre, i nuovi iscritti, spero che vi iscriverete, sempre di più, al canale di coppia, Davide Chiara Cianni, mi raccomando, ve lo ripeto, fino allo stress, iscrivetevi anche al canale, Chiara D'Alessandro, e Chiara D'Alessandro ASMR, perché se no, lei, vi viene prendere a casa, e non vi conviene, bene amici, io vi saluto, buona serata, il solito, yeah!